ciao a tutti allora volevo tornare con l'estate con un bel allenamento anticellulite per farlo dovrete ricordare che si spinge verso basso sul trampolino e non verso alto ok così cominciamo a spingere basso ok è proprio questo pompaggio con i piedi piatti ok e ammortizzando con le caviglie e le ginocchia se guardate poco poco sono busto leggermente in avanti ok genocchia e le caviglie che sono elastici spingo e tiro spingo e tiro ok ricordatevi non saltare sulle punte dobbiamo saltare con il tallone quasi appoggiato al piede intero ok ci siamo 4 3 2 ok 8 fuori bello jumping jack e chiudo ancora 8 spingi 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 e chiudo 8 ok andiamo su 4 tempi e facciamo 4 ora chiudo 4 chiudo 4 chiudo ancora una volta poi scendiamo su due tempi ok jumping jack doppio ora doppio 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 spingo spingo proviamo singolo singolo e apro chiudo eccellente ragazzi 4 3 torniamo in doppio facciamo doppio chiudo doppio e sulle singoli giriamo sulla destra stop fermo qua torno doppio 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 torno centro 4 3 2 ancora usa le gambe doppio 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 gira sinistra vado 2 3 ancora ancora doppio 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 torno centro 4 3 2 ok apriamo doppio chiudo doppio chiudo ancora doppio chiudo doppio questo si chiama stella up and down ancora 4 3 occhio aggiungo facciamo doppio doppio torno indietro e salto con le gambe ora sinistra sinistra doppio doppio scendo scendo e spingo ok mettiamo doppio stella e doppio stella chiudo ora doppio destra doppio 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 rimango e spingo adesso facciamo di nuovo questo facendo doppio 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 sinistra doppio 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 e rimango ok adesso facciamo doppio stella e singolo facciamo doppio doppio singolo destra vado torno spingo le gambe di nuovo doppio chiudo doppio usa le gambe chiudo destra ok siamo pronti ok siamo pronti da capo doppio 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 singolo giro destra e giro usa le gambe spingo con le gambe ancora doppio doppio torno doppio centro e vado vai 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 ancora doppio doppio e vado sinistra giro giro 4 3 grandi sorrisi dai ragazzi usa le gambe doppie gambe doppie centro 4 3 e doppio stella faccio doppio chiudo destra in singolo vado torno e spingo con le gambe e doppio vado doppio vado sulla sinistra vai 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 spingo ancora usa le gambe usa le gambe usa le gambe vado spingo ancora doppio doppio vado ok ecco scendiamo spingo sulla destra spingo spingo proprio premi premi e penso come quello stai proprio aiutando il ritorno linfatico e venoso spingo 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 vado vado ok porta da giù su 4 4 4 e spingo 4 e spingo 4 e 4 diamo 2 su 2 2 2 2 2 una bella marcia e marcia semplice 4 3 2 2 2 2 1 sinistra 2 3 e marcia vai 4 3 tutta l'inizio doppio jumping apro chiudo gira destra gira vado 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 torno doppio doppio torno doppio centro 4 3 2 2 ancora doppio 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 e vado doppio torno e 4 3 2 di nuovo nuovo vado ancora uso le gambe spingo con le gambe 4 3 2 e vado doppio stella chiudo braccio destra singolo vado vado e spingo doppio uso le gambe uso le gambe sinistra vado e torno di nuovo e due su due giù singolo singolo vado torno spingo e up chiudo down ultima volta sinistra vado scendo ora doppio 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 marcia 4 3 2 ancora ancora 2 2 2 2 2 2 marcia 4 3 uso le gambe 2 2 vado 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 4 3 ok sci di fondo porta la destra in avanti ok piedi sono sempre frontali continuo continuo ok bel gioco di ginocchio delle gambe ammortizzate cambio vado vado ok sto spingendo con tutti i piedi piatto ancora 4 3 2 facciamo 8 tempi 8 cambio ora 8 yeah lo cambio facciamo 4 e 4 cambio 4 cambio 4 cambio 4 cambio 4 cambio andiamo su singoli singoli vado singoli ok ok lo portiamo 4 4 e poi singoli siete pronti andiamo and 4 cambio 4 singoli 4 ok giriamo direttamente a destra facciamo 4 ancora 4 rimango qua in singoli vai Uso le gambe, torno, centro, quattro, ancora quattro, rimango qua singoli e vado, 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 left, left, sinistra, come on, vado, singolo, four, three, two, turn it avanti, four, ci siamo, four, rimango tutto da capo, doppio jumping jack, and we go, doppio, 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 giro, and singolo, uso le gambe, doppio, e centro, vado, four, three, two, ancora, and, doppio, 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 viaggio sinistra, and, vado, uso le gambe, spingo, per la cellulite, contro la cellulite, dai, 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 pompa e drena, pompa e drena, più che spingi con le gambe, più dreni, doppio, stella, and, stella, 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 vado, vado, torno, spingo, doppio, stella, doppio, stella, sinistra, vado, torno, spingo, ancora, doppio, destra, vai, spingi, vai, doppio, 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 sinistra, vado, and, spinta, camminate basso, doppio, 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 marchi, ginocchia in alto, vai, vai, sinistra, doppio, 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 marchi, e alta quella ginocchia, ancora, 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 e doppio, 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 marchi, vai, 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 sci di fondo, 4, destra, and, 4, ancora, 4, singolo, vado, 4, 3, gira a destra, ora, and, 4, 4, singolo, e singolo rimango, 4, 3, torno, centro, 4, 4, 4, singolo, vado, 4, 3, 2, gira, gira, 4, and, 4, singolo, and, 4, 3, 2, and, 1. Bravi ragazzi, è stato un bellissimo clip che abbiamo fatto insieme, allora ci vediamo nel prossimo allenamento di Super Jump insieme, vi voglio bene, ricordate che un piccolo di costanza ogni giorno dà tanti risultati, tanti risultati nel tempo, ci credo in voi, credete, crediate in voi stessi, perché si meritato il massimo. Ricordate ragazzi, con un pizzico di costanza, il tuo corpo risponde sempre dando grandi risultati, anche solo 10 minuti al giorno, prendi il trampolino di Super Jump Cold Sport, cominciate a saltare, spingi con quelle gambe, ricordate sempre che meritate il massimo, ok? E sta a te a permettertelo di averlo. Un bacio a Gil, ci vediamo la prossima volta. E mi raccomando, fate playlist con i video miei che ti preferite, e così potete trovarmi con più facilità la prossima volta che ti vuoi allenare. Ciao da Gil, ciao!